Buonasera, io sono Argentini e per me tu è la donna più bella dell'Italia. Perché lei fonda Scalas della piazza Spagna? Perché non mi va, non mi piace, preferisco stare qui e guardarmi lo spettacolo. A me la modella non mi piace, a me mi piace il tuo. Amore, grazie. No, no, è vero, perché... Perché mio marito di tempo? E' buono, lei também, lei costa macchina e modella. Como no, claro que sim. Ciao, grazie. Ciao, tante grazie. Ci vediamo in Argentina, un'altra opportunità. Ornella.